Sei uno chef o professionista dell'oreca? Stai cercando un nuovo prodotto ittico per il tuo menu? Vuoi risparmiare sui tuoi acquisti di ittico? Cerchi continuità delle forniture e garantirti la disponibilità di prodotto? Vuoi un servizio self-service, sempre disponibile, per pianificare i tuoi acquisti? Vorresti confrontarti con un tecnico ittico o direttamente con il produttore? Affidati a Conchilia, il primo marketplace di prodotti ittici freschi e congelati da tutto il mondo. Conchilia ti offre diretto accesso online a un ampio catalogo di prodotti ittici in continua evoluzione, con disponibilità e prezzi sempre aggiornati. Consulenti ittici ti supporteranno tramite email, chat e telefono per trovare alternative valide per il tuo menu. Acquistare con il miglior rapporto qualità-prezzo, gestire i tuoi ordini, programmare le forniture per ottimizzare le giacenze di magazzino. I nostri selezionatori costantemente valutano nuovi produttori per garantirti varietà di prodotto, qualità e disponibilità. Tecnici esperti seguono il prodotto dal paese di origine sino al tuo ristorante, garantendo il rispetto della catena del freddo, la tracciabilità e la sostenibilità. Conchilia è costantemente alla ricerca di nuove soluzioni per rendere più semplice il tuo lavoro. Conchilia è una community di soli chef e produttori. Scopri di più su Conchilia.com